Perché è importantissimo che in Italia venga introdotta una norma del genere? Oggi per il cinema e domani per lo spettacolo dal vivo? Innanzitutto perché noi abbiamo sempre proposto, perlomeno io l'ho sempre scritto nelle mie leggi del 2001 a oggi, una cultura libera svincolata dal potere politico qualsiasi esso sia, svincolata dalla discrezionalità di qualcuno che comunque deve decidere in maniera discrezionale se un progetto è valido o meno. Io addirittura ho pensato, e sto lavorando a questo, come può avvenire un incontro trasparente fra chi offre il denaro e chi lo cerca in questo caso? Allora, oltre ad aver convocato alcune società che già si occupano di product placement e che quindi già usano questo strumento dell'intermediazione e che quindi evidentemente già hanno i contatti con le società di produzione, uno strumento estremamente trasparente, che chiaramente va tutto verificato e tutto da studiare, sarà la possibilità di mettere in rete, e qui ci viene incontro il Ministero del Lavoro, che insieme al Ministero dei Beni Culturali dovranno costruire un portale dedicato al Tax Shelter. Il Ministero del Lavoro già ha creato un portale in questo senso, che è l'incontro fra domande e offerta del mondo del lavoro e dello spettacolo. Si chiama Lista Spettacolo IT e fa parte del grande portale della Borsa Nazionale del Lavoro. Bene, all'interno di Lista Spettacolo IT, però in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali, ci sarà un portale dedicato al Tax Shelter, per cui tutte le aziende che avranno voglia di investire i loro utili, che sono stati detassati allo scopo, potranno dichiarare la loro disponibilità, mettere i loro recapiti telefonici in maniera molto chiara e molto trasparente, e viceversa tutti i produttori, ma anche gli autori, ma anche il regista, ma anche il distributore e l'esercente che dice se io ho voglia di trovare un coproduttore, potranno fare questo, questo potrà avvenire in maniera trasparente e multilingue. Il Tax Credit e il Tax Shelter vengono applicati anche alle coproduzioni, quindi l'idea è attrarre capitali anche stranieri per il nostro cinema, la nostra produzione cinematografica. Quindi l'idea è rendere il più possibile trasparente l'incontro fra chi offre del denaro per la produzione cinematografica e chi lo cerca, in modo di svincolare il più possibile la cultura dal centralismo, dallo statalismo, dalla cultura che deve per forza passare attraverso l'imbuto discrezionale di qualcuno che decide a chi vanno i finanziamenti per un cinema, per un film piuttosto che per un altro. Non ci potrà mai essere un totale disimpegno da parte del bilancio pubblico nei confronti della cultura. E insisto, è giusto che sia così, non può che essere così. Quindi, primo problema che dobbiamo sgomberare da qualsiasi riflessione. Però, nel momento in cui facciamo questo, dobbiamo toglierci anche l'altro stereotipo che purtroppo ha consegnato in parte la cultura italiana ad una situazione che è quella che proprio prima Gabriella ricordava, cioè la discrezionalità del potere politico del tempo. E cioè all'idea che comunque tutto quello che passa attraverso il finanziamento pubblico debba per forza passare attraverso meccanismi di selezione e discrezionale. E nello stesso tempo, e non invece, attraverso meccanismi come quello del tax credit, ma soprattutto, io credo, ha fatto bene nuovamente a ripeterlo, perché è sicuramente il più innovativo di tutti, mi rendo conto che anche con qualche elemento che può in generale qualche preoccupazione in un Paese come il nostro, dove, come dire, il pagare le tasse non è ancora uno degli elementi, come dire, di considerazione più vasta nell'opinione pubblica, quindi non a caso, diciamo, strumenti di questo tipo in un Paese come il nostro arrivano in ritardo rispetto ad altri Paesi. Penso agli Stati Uniti, dove invece, come sapete, il reato fiscale viene considerato reato comunitario e quindi viene considerato uno dei reati più gravi, perché è il reato contro la collettività, come giusto che sia, è inevitabile. Però, torno al ragionamento che facevo, dicendo che l'introduzione di strumenti di questo tipo finiscono per togliere la discrezionalità insita in selezioni di qualsiasi tipo e affidare invece a meccanismi di carattere automatico che possono permettere, ovviamente, una crescita complessiva del settore in modo più autonomo e più libero. E questo è l'altro elemento che io considero assolutamente fondamentale.